Eccoci a casa signori miei, dopo il viaggio della speranza, sì perché quando io vado a vedere una partita in trasferta su da voi al nord per me è il viaggio della speranza con treni, ritardi, bus, due giorni praticamente dentro mezzi di locomozione Tutto questo per vedere 90 minuti di Juventus-Inter, e che Juventus-Inter? Un Juventus-Inter in cui si è provato a fare anche un po' di polemica, ma poi neanche quella, poi neanche la polemica ha attecchito perché appena sono arrivate le immagini, l'altra angolazione del contatto d'Armian Chiesa, sono finite anche le polemiche e c'è rimasto ben poco di cui discutere, proveremo a ritornarci comunque indubbiamente, anche prendendo un po' le dichiarazioni degli allenatori e della classifica come al solito, ma c'è da concentrarci anche sul nuovo, tra virgolette nuovo, Napoli di Mazzarri, sulle Romane la Roma che si prende il quinto posto e che continua a scalare e c'è il Bologna Ci sono tante situazioni che voglio analizzare insieme a voi cerchiamo di farlo velocemente, brevemente, anche se nel riassuntone nulla di tutto ciò è ipotizzabile ma proviamo a velocizzare voi come al solito sotto nei commenti scrivete tutto quello che vi passa per la... non tutto quello che vi passa, nel senso che se vi passa per la testa che volete fare l'amore con... no no, quello non mi interessa ma nel contenuto calcistico scrivete quello che vi pare ovviamente con cognizione di causa se volete lasciate un like, se volete scrivete, se volete condividete su video su Facebook se volete fate quello che vi aggrada partiamo? Sì, velocemente ragazzi, velocemente parto anche un po' con i marcatori e come dicevo prima provo a velocizzare tutto allora vado sui primi due vado sui primi due Lautaro Martinez perché sta cannibalizzando si può utilizzare... sì, me lo prendo, me lo butto dentro, me lo do in pasta sta cannibalizzando la classifica marcatori un po' quello che aveva fatto Ozyman l'anno scorso e che non gli sta riuscendo credo anche per le assenze perché Ozyman con 4-5 non so quante presenze meno ha di Martinez e queste secondo me fanno la differenza perché Ozyman, ragazzi miei, l'ho visto l'altro giorno è giocatore decisivo è giocatore diverso dagli altri così come lo è appunto Lautaro Martinez che ragazzi miei decide, decide c'è poco da fare, grandissimo movimento su Gatti boom, sfreccia e la butta dentro quindi quello che mi piace di Martinez è che veramente lì davanti sa fare un po' tutto cioè i movimenti della prima punta ma anche l'intelligenza della seconda punta quindi è una roba... secondo me Ozyman, ecco per dire secondo me ha più picchi nella magari forza esplosiva invece a Lautaro riesce un po' tutto se devo fare un po' un po' il confronto stupido banale che piace un po' tutti sui social Ozyman più picchi più picchi ma Lautaro riesce un po' in tutto e poi c'è Berardi Berardi che è quello quello che in passato rappresentava che ne so di Natale per l'Udinese Miccoli al Palermo Cristiano Lucarelli al Livorno e un po' Berardi è quell'elemento che ormai è in via d'estinzione c'è poco da fare non ce ne saranno di altri Berardi secondo me e spero di sbagliarmi però c'erano questi giocatori che in queste squadre di provincia facevano la differenza facevano catterbe di golle facevano il bene delle proprie squadre ed è quello che sta facendo Berardi al Sassuolo Levante Berardi al Sassuolo è una squadra che che rischia veramente la regge di processione ed è grave secondo me per quello che ci ha ci ha un po' abituato e quindi questi sono i due giocatori che volevo citare oggi in questa classifica ma come dicevo prima vado veloce vado a razzo anche perché in questa stanza adesso che fa freddo fa veramente perché non è riscaldato c'è una stufetta qua e sto morendo di freddo a voi lo so non ve ne frega una mazza allora vado spedito velocemente se è possibile analizzando gli ultimi le ultime 5 e ogni volta il mio cervello va in pap perché quando pensi che la serenità è completamente out invece no ah aspettate tra l'altro devo buttarvi dentro anche i risultati se no se non vi butto dentro non è che facciamo una ecco li mettiamo dentro ecco dicevo quando pensi una cosa viene poi cancellata e depennata e devi fare altri ragionamenti cioè magari il Cagliari lo vedevo veramente alla frutta e nelle ultime 4 partite ti ha tirato no no nelle ultime 5 possiamo mettere tutte le ultime 5 ha tirato fuori 8 8 punti 8 punti per una squadra che era praticamente down su tanta roba la stessa salenità l'altro giorno mi ritrovavo a dire guardate che forse è una squadra che ormai è in serie B praticamente e invece e invece no perché nelle ultime 2 partite un pari è una vittoria su 4 punti che danno l'infa che riaccendono la macchina e poi la sanità ha battuto la Lazio e anche con estremo estremo merito con una grande partita con una grande spinta dai tifosi di casa per cui vedete ogni ragionamento mi sembra molto molto superficiale ecco io li faccio e poi mi accorgo che sono veramente superficiale perché di giornata in giornata le cose possono possono realmente cambiare o perlomeno se prendiamo lo spicchio delle 5 giornate ogni 5 giornate forse questo format dovremmo farlo ogni 5 giornate non lo so vediamo perché davvero sembra assolutamente una roba volubile quello che mi sento di dire se devo sentenziare una cosa è che queste 5 forse oggi sono le 5 che veramente lottano per la retrocessione perché come potete vedere nella classifica qui a fianco secondo me dalla dalla quindicesima a salire vedo squadre più toste vedo squadre più toste lo stesso Genoa che non è troppo ne ho promosse tutto quello si avrà delle differenze però la vedo più squadra rispetto alle ultime 5 per fare per dire una roba no poi magari appena l'ho detto adesso il Genoa le perde tutte e sarà quella che dovrà veramente districarsi però le ultime 5 mi sembrano veramente quelle che stanno facendo cioè non non lo so mi sembrano quelle in difficoltà assolutamente più delle altre grazie al cacca però vediamo però secondo me oggi la dico qua sarà una lotta tra queste tra queste 5 che che vedete sicuramente e puntualmente verrò invece smentito andiamo dalla quindicesima all'undicesima come dicevo prima sì il Genoa che alterna vittoria scompia la vedo comunque una squadra che è solita è solita e che può può no mette da parte quelle quelle sotto sarà difficile ma può il Sassuolo cosa cosa dite il Sassuolo mi sembra la classica squadra che come dicevo prima nel momento del no dove poi ti devi dar una svegliata se la danno la sveglata cioè quando capisco che se poi non vinci avendo 12 punte la scorsa giornata ragazzi è una squadra che sta lì adesso a lottare per non buttarsi in quelle che devono lottare per retrocedere nel momento che si sentono che devono lottare per retrocedere allora ci buttiamo la vittoria del caso e cerchiamo di risalire la china mi sembra un po' questo il Sassuolo di quest'anno e e poi vedremo vedremo io mi aspetto di più dal Sassuolo è vero ha fatto 3-4 contro l'Empoli la sua sta una partita tra l'altro meno male che l'ha vinta il Sassuolo perché altrimenti buono per Sassuolo meno buono per l'Empoli indubbiamente dove abbiamo visto gol ribaltamenti cose assolute però il Sassuolo ne ha di più ne ha di più anzi io quasi complimenti l'Empoli Sassuolo li faccio all'Empoli ci prova il Sassuolo ne ha di più di tutte quelle che sono sotto ne ha assolutamente di più e secondo me ne ha di più anche di qualcuno che sta sopra lo stesso Lecce Monza secondo me ne ha di più ne ha di più forse lo stesso Torino secondo me ne ha di più il Sassuolo per talento per qualità e quindi mi aspetto altro e qui voglio citare un po' anche il volo del toro per dire che forse dopo anni di Juric forse c'è bisogno di un cambio cioè magari dopo un buon no perché l'allenatore non sia più buono no io sono stato sempre a fianco di Juric a combattere insieme a lui no lo dico perché forse dopo anni di un allenatore la squadra non riesce più ad assimilare cioè e quando tu ti mangi sempre la stessa roba anche se è fantasmagorica magari poi hai bisogno di altro cioè hai bisogno di altre proteine anziché carboidrati faccio questo esempio di me eh per cerca forse e potrebbe non dico essere la stessa cosa alla Lazio però 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 sì forse vale la stessa cosa per la Lazio che non so se riescono più a seguire l'allenatore se ne abbiano la voglia non lo so perché vedere una Lazio l'anno scorso al secondo posto quest'anno veramente fa fatica io credo che la Champions sia uno dei motivi l'altro motivo è l'assenza di Savic che tu mi puoi acquistare così camata tutto quello che mi pare ma Savic combinati insieme all'estero di Luis Alberto erano qualcosa di clamoroso cioè Savic è proprio il giocatore che nella Serie A di oggi ti fa acquisire punti in più non ci fai nulla perché il giocatore completo che ha stazza fisica abbinata alla tecnica che ti va a chiudere l'azione ma anche quello capace di avviare le azioni per cui secondo me l'assenza di Savic la Champions League che vuoi o non vuoi ti porta via delle energie fisico-mentale l'abbiamo visto quanto non ci sia equilibrio in questa non c'è mai stato equilibrio nella Lazio cioè una squadra che un altro po' si andava a vincere lo scudetto quell'anno della sì della pandemia se non sbaglio che poi l'hanno fermato e poi ha fatto down totale è una squadra che si legge veramente su equilibri molto 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 sottili lo stesso Sarri deve valutare lui stesso davvero lui ha detto no nel momento in cui so che sono l'unico colpevole me ne vado e forse deve valutarlo può valutarlo perché non lo so se la squadra lo segue onestamente questo non lo so andiamo avanti velocizziamo su lei c'è ben poco da dire sta facendo questo campionato il parecino col Verona il 2 a 2 però c'è poco da dire non voglio risultare scontato e banale e qui cosa andiamo a analizzare è un momento assolutamente no della Fiorentina che ne perde 4 nelle ultime 5 ragazzi miei la stessa la stessa Atalanta ha perso un po' di grip però secondo me almeno in questa ultima sconfitta con Napoli io non ho visto un'Atalanta ridimensionata che ha fatto bene in questo primo avvio di campionato primo avvio un cappero perché ormai siamo alla quattordicesima giornata no vedo sempre una squadra che è sul pezzo che magari oggi perde ma poi ti può fare il filotto di 3-4 vittorie perché ne hanno ne hanno ho visto una buona Atalanta con il Napoli quindi c'è poco da aggiungere il solito Frosinone che sta facendo delle robe incredibili e si porta cioè il Frosinone che si porta nella parte sinistra di classifica un attimino di tempo perdiamocelo un attimino di tempo perdiamocelo perché una squadra cioè si è portata nella parte sinistra della classifica il Frosinone giocando bel calcio lo diciamo sempre con degli interpreti importanti lo stesso sull'è sta esplodendo sta esplodendo al Frosinone sta facendo vedere delle cose veramente veramente impressionanti che bello che bello ogni tanto vedere una cenerentola che poi diventa che cazzo diventa non lo so però è bello vedere una roba del genere sono veramente sono veramente appassionato perché sono uno di quelli che pensavi veramente di Francesco forse era stato in qualche modo fortunato e poi boom gli si era presentato il reale conto no no tutt'altro tutt'altro perché sta facendo vedere delle cose interessanti veramente interessanti bravo la porta chiusa una carota non lo so e poi e poi il Bologna cioè un attimino il Bologna ragazzi 21 punti gioca un grande calcio gioca un grande calcio ci fa divertire con sapete chi mi si omiglia perché poi parliamo del Bologna e si va a finire su Zic però sapete chi mi dà l'idea mi dà l'idea dell'Ibrahimovic dell'Inter ovviamente con i dovuti con le dovute proporzioni che sia però ho visto quelle sterzate quel cambio di G che mi ricorda l'Ibrahimovic dell'Inter ve lo ricordate contro la Sampdoria la Samp no Ibra che ha fatto ne ha saltati tre cose a su un altro livello Ibrahimovic anche un'altra anagrafica se non sbaglio già l'Inter forse non voglio di cazzate ma però me lo ricorda cioè quelle cose non è Ibrahimovic però me lo ricorda cioè quel gira a me cioè ci può stare o sto dicendo come paragone come come posso dire no che deve ricordare va basta ne ho detto esagerato stop si mi taccio però scherzo a parte il Bologna ragazzi Bologna Tiacomotta ragazzi Tiacomotta grande allenatore Tiacomotta grande allenatore tenete a mente questo nome tenetelo a mente custoditelo perché ne sentiremo parlare e andiamo alle prime cinque dove magari perdiamo un po' di tempo questa volta sto velocizzando sto velocizzando per davvero e fermiamoci sulla Roma allora sulla Roma qualcuno mi dirà eh Neschio l'hai attaccata sempre sì sono contento di averlo fatto oggi oggi riscuoto no qualcuno mi dirà no ma oggi posso riscuotere perché io sono uno di quelli che lo sa che la Roma è forte in prima perché Di Bala Lukaku non ce l'ha nessuno non che poche squadre hanno una no Di Bala Lukaku è una coppia che non ha nessuno no ma poche squadre non ce l'ha nessuno c'è da dire che ovviamente purtroppo è una coppia che non si ripropone sempre visto che Di Bala qualche partita alla salta questo è vero questo va assolutamente va assolutamente detto però la Roma ha delle armi importanti ed è una squadra che in questo momento si è messa in carreggiata per fare quello che deve fare entrare nelle prime quattro e si è messa in carreggiata non che ci sta riuscendo quindi il cammino è assolutamente lungo e c'è da pedalare però la dimostrazione che può farlo è proprio questa classifica qua il fatto di come sia risalita no perché può farlo la Roma può farlo io continuo a credere che vedendo le prime quattro forse non arriva la Roma però può farlo però può indubbiamente farlo e se Mourinho è l'allenatore forte ma forte sotto tutti i punti di vista che noi ci ricordiamo deve entrare nelle prime quattro perché fa qualcosa di normale anche di normale ripeto che ha fatto Sarri con la Lazio l'anno scorso quindi figuriamoci questo non può farlo Mourinho con la Roma per cui vediamo vediamo vedo una Roma che può fare ripeto poi una squadra ripeto ma quante squadre hanno il Sharagui che magari decidi anche di non farlo entrare che questo vede la porta è interessantissimo quante squadre no tanti giocatori di buon livello ragazzi per quanto per quanto mi riguarda visto il gol che ha fatto Di Bala una bella trama un bel gioco tornato Pellegrini occhio occhio perché la Roma ecco io per quello che mi ha fatto vedere negli ultimi anni dico che non entra nelle prime quattro ma io so anche quello che sa che devo essere smentito devo essere smentito perché so che la Roma ne ha so che la Roma ne ha e che è un po' frenata da determinate trame di gioco secondo me ma la Roma può farlo può indubbiamente farlo quindi vediamo vediamo che succede Napoli Milan Juve e Inter il Napoli che ha vinto al Gevis e il Milan che ha vinto al San Siro contro la Fiorentina secondo me entrambe non sono state vittorie nette e questo me lo potete concedere il Milan più fortunato del Napoli per quanto mi riguarda perché il Milan non ha fatto una grande secondo me non ha fatto una grandissima partita con la Fiorentina però devo di una roba il Milan veramente gioca senza 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 il 90% del parco attaccanti con delle assenze in po' con l'off to check che ancora fa sì e no 20 minuti con Benasser che quando ritorna cioè il Milan gioca a tante assenze cioè veramente tante assenze e nel momento in cui recupererà tanti di questi giocatori sono sicuro che il Milan di Pioli potrà continuare a lavorare bene perché per quanti in tanti continuano a puntare l'edito no ma il Milan di Pioli al 100% no no al 100% anche al 70% perché il Milan è neanche al 70% per i giocatori a disposizione ecco questo è un discorso che aveva fatto ragazzi questo è un discorso che aveva fatto perché se tu non hai i giocatori poi non è facile soprattutto perché il Milan secondo me non è la rosa dell'Inter non conto avere la rosa dell'Inter e nonostante ciò se ti manca Pavard e Bastoni io sento l'allenatore parlare di emergenza ma quale emergenza ma quale emergenza ma dove sta questa emergenza con la rosa che è all'Inter che metti dal Milan e ti fa ancora meglio di Pavard no quale emergenza non hai bastoni ci puoi mettere Acerbi perché tu hai Devrai centrale e l'avete vista la partita che fa Devrai difensore Devrai in questa in questa annata non ha sbagliato niente è un'annata che non sbaglia niente ci rendiamo conto che rosa ha l'Inter perché poi mi sembra sempre diciamolo perché c'è poco da da nasconderci ecco perché poi io sono incazzato come una iena se quasi se fai il gioco se fai il gioco della Juventus sono andato a finire su Juventus se fai il gioco della Juventus che siamo tutti qui a criticare nella vita la Juventus dicendo no questi giocano per il pareggio e poi fai la stessa roba e no non lo posso accettare ragazzi non lo posso non lo posso accettare e mi devo sentire dire anche l'allenatore dire no prima della partita non avrei fermato per il pareggio ma che che il secondo tempo non l'hai proprio giocato non l'hai voluto proprio giocare perché comunque no se vai ad attaccare la Juventus magari dietro ti sbilancia io sono andato a vedere ecco vi ho detto le statistiche c'è stato nel secondo tempo solo il colpo di testa di Turam o tiro no il colpo di testa all'inizio partita il tiro di Turam vai a vedere gli expecti expecti gol 0 per la Juventus il secondo tempo e 0,22 per l'Inter cioè una roba 22 o 27 comunque è una roba veramente e non può essere Juventus Inter questo ragazzi non può essere Juventus la partita non una partita la partita perché quando si parla di Juventus Inter si parla dei derby d'Italia non può essere questo anche sì lo devo fare sto discorso anche all'estero ma tu la vedono i tifosi dell'Inter e dell'Aventus ma gli altri chi la vede una partita del genere chi la vede una partita del genere e il calcio ragazzi così fallisce ragazzi se sono queste le partite non le guarda nessuno non prendiamoci in giro e facciamo lo sto ragionamento perché poi fra 10-20 anni quando i nostri figli se ci lavriamo speriamo non si ci avvicinano come noi perché noi siamo appassionati e comunque quando vediamo la nostra squadra siamo ma i nostri figli se vedono cioè chi se ne fotte di vedere una partita dove non ci sono tutti rinporti ma stiamo scherzando non la fanno sta roba segnatevelo sappiatelo capitelo interpretatelo sappiatelo e va bene e su Juventus non ho altro da aggiungere perché l'ho detto adesso ed è un pareggio che va bene alla Juventus non all'Inter e molti dicono il contrario no perché sei allo stadio no 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 l'abbiamo detto l'Inter la prossima gioca con Napoli ma prima di giocare con Napoli adesso c'ha il turno infrasettimanale in Champions quindi se c'era una partita da accontentarmi magari con Napoli perché dopo con Napoli c'è l'altro turno infrasettimanale poi c'è ci sono partite una dietro l'altro ragazzi è un continuo evolversi e la Juventus si gioca la sua partitella di campionato stop quindi occhio a tenere la Juventus a due punti cioè che sia chiaro non è che il pareggio non va bene il pareggio va bene ma neanche provare a fare qualcosa perché per carità la vinci magari poi non la vinci la pareggio è uguale ma va bene sì puoi perdere allora è lì il problema perché avevi paura di perderla e con questa mentalità secondo me non va bene secondo me va bene e poi ritornando al Mina che dicevo sui giocatori ne ho parlato del Napoli del Napoli che dire ragazzi del Napoli voglio rivederlo perché adesso tra l'altro il Napoli giocherà con l'Inter al Maradona quindi ritorna ma ritorna non Maradona ritorna magari ritorna Mazzarri al Maradona quindi l'accoglienza anche del pubblico che già è cambiata proprio come posso dire la percezione sono contenti i napoletani di vedere il faccione di Mazzarri ho visto già gli abbracci dell'allenatore con i giocatori già è un qualcosa cioè la piazza al momento è contenta ecco al momento la piazza è contenta soddisfatta ovviamente che la piazza sarà contenta finché c'è questa alone di simpatia ma poi c'è da portare i risultati e li vedremo contro l'Atalanta non mi sento dire che è una squadra che sia cambiata così tanto oh che partitone no vedi no perché già tanti no e Magarsia non faceva sì sì per carità di Dio però è anche vero l'Atalanta nel secondo tempo ha messo sotto gran parte il Napoli è andata come doveva andare e va bene così nel senso che per il Napoli va stra bene così non è assolutamente Pacio Gevis assolutamente no però voglio vedere altre partite voglio vedere un pochettino quello che accadrà sul Napoli proprio non mi sento di sbilanciarmi in alcun modo non mi sento di dire che la squadra che con qualche filotto può ritornare anche a lottare per lo scudetto io credo che il Napoli ha tutto assolutamente tutto per entrare nelle prime quattro e credo che sia quello il vero e reale obiettivo poi se l'appetito viene mangiando per carità si mangia bene si fanno anche delle grandi abbuffate ma va visto è una di quelle partite in cui valuteremo questa e anche la prossima lo dicevo prima Napoli-Inter è la prossima vediamo vediamo quello quello che succede c'è da dire che anche il Napoli come l'Inter Napoli avrà una partita importante e reale no? e quindi e quindi è così è così è così vediamo vediamo ragazzi fatemi sapere dai tutti voi cosa ne pensate e niente un grande abbraccio da Neschio e alla prossima un abbraccio c'è il Gallo che canta non so se lo sentite il Gallo ogni tanto canticchia gli piace proprio canticchiare un grande abbraccio iscriviti al conditionsale iscriviti al territoriale d laggi avvi non so se lo sentite inscritti tali in ability iscriviti al giorno per è bene alone iscriviti al nostro